Che aria sconvolta! Hai appena fatto sesso? Che cosa vuoi da me? Non è evidente. Ciò che è successo l'altra sera non dovrà mai più ripetersi. E il motivo, scusa? Perché non è sano ed è sbagliato. Beh, può darsi che mi sfugga qualcosa, ma non vedo niente di insano né di sbagliato in un po' di ginnastica sessuale fra adulti consenzienti. Tu non sei un'adulta, tanto per cominciare. Vecchio sporcazzone. Non mi resta che tirar fuori il mio vibratore mentre leggo il tuo blog. Beh, perlomeno sarà servito a qualcosa. Sono contenta lo stesso. Posso dire, ehi, io me lo sono fatto a quel tizio. Non la trovi una cosa strana? Cosa? Di collaborare alle dipendenze di uno che ho di tanto. Vuoi spiegarti meglio? Mio padre. È suo, è lei in magazine. Mia, entri o no? Eccomi, vengo. Corri a lei. È stato un piacere. È stato un piacere.